Un cordiale saluto dalla relazione di Chiranze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana, è prevista neve sul tratto appenninico dell'autostrada e sta grandinando in a11 tra Lucca e Alto Pascio. Raccomandiamo di modellare la velocità e di mantenere la massima prudenza alla guida. Per maltempo, inoltre, con forti precipitazioni a carattere temporalesco che hanno provocato temporanei guasti agli impianti tra le stazioni di Pistoia e Porretta, la circolazione dei treni regionali in linea potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Dobbiamo salutarci per il traffico urbano di Firenze. Tra i lavori al via in settimana segnaliamo quelli di asfaltatura in via del Pellicino e via Sant'Andrea a Rovezzano e l'ultima fase dei lavori di riorganizzazione della viabilità in zona a punte a greve con la realizzazione di una nuova rotatoria in via Baccio da Montelupo. Può versi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana in Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!